PAC è un progetto che vuole pubblica assistenza per percambiamento, gli incontri che stiamo avviando in questi giorni, abbiamo pronunciato dalla campagna, sono incontri che hanno come oggetto specifico l'accoglienza dei volontari all'interno delle organizzazioni con un'attenzione particolare alle donne, agli migranti e ai giovani. Le domande che ci stiamo facendo è come sostenere la partecipazione in queste categorie all'interno delle pubbliche assistenze, come aprire ai territori, come fare in modo che la partecipazione diventi parte integrante dell'agire volontaria. La modalità che ci siamo dati per andare alla ricerca di queste esperienze per riuscire a capire che cosa già sta succedendo nelle sei regioni coinvolte dal progetto è il barcamp. Come funziona il barcamp? Tutti coloro che partecipano sono parte integrante della non conferenza, perché questo è il barcamp, la non conferenza. Non ci sono partecipanti ma sono protagonisti, non ci sono spettatori ma sono relatori. Chiediamo ai volontari che partecipano agli incontri regionali di arrivare con il racconto breve ma importante e fondamentale della loro esperienza di accoglienza, in modo che questo possa essere il punto di partenza dell'attività di formazione interregionale che si sfruggerà a maggio.